per le strade, per insomma queste cose qua. E allora io non c'ero mai andata, se che ho preso l'occasione di visitarla anche così. Però mi sono divertita tanto. Guardate come avete col blu sempre, che è quello del mare. E quel celeste, io, il celeste e il blu sono i colori di Bariè che quando posso ci sono sempre. Secondo da dove parto. Ma tutto il modo... Mi piace questo aspetto che hai di essere libera, capito, e sincera nella pittura. Ah, io sì. Il giudizio critico, sapete, più riconosciuto è quando ci si accorge subito di quando un artista finge perché vuole dimostrare. Ma la pittura non è una dimostrazione di forza, non è una dimostrazione... La pittura è l'idea di trasmettere intatta un'emozione, un sacco, a queste trasformazioni. Quindi non è l'idea di dimostrare un virtuosismo lenticolare. Per quello, certo, io rispetto anche quelle forme d'arte. Vedi, quando si dice... A me la cosa che trovo molto fastidiosa è questa. Allora, l'estetica è mobile, non è statica. Esiste la qualità e poi uno può fare quello che vuole nell'arte. Mi dà anche fastidio quando sento dire che, per esempio, un madonnaro, ce ne sono tanti qui a Firenze, per dire, però, ecco, che non sia arte. Cioè, il madonnaro, comunque, dipende da come fa l'opera, capite, da come la fa. Però sceglie una via esatta, lenticolare, delle volte caricaturali. Ma poi lì dipende. Ma l'idea stessa di... Tu sentivi di fare questo, capite, ecco, in questo modo. Ecco, e nessuno potrà rifarlo in questo modo. Perché uno deve sentire un quadro, quando lo finisce deve darti le emozioni. Io penso che i quadri possono dare serenità per qualsiasi cosa. Può essere un mazzo di fiori, può essere un arrivederci. Un qualsiasi cosa, quando ti metti lì, magari hai i tuoi pensieri, i tuoi desideri, i tuoi sogni, perché ognuno, anche se non lo ammetterà mai, ha sempre un punto dove vuole arrivare in un modo o nell'altro. Cioè, in un modo più veloce o più lento, insomma, come tutti, non si può sapere quando una cosa ingranerà. Però, quando magari hai dei pensieri o devi fare delle scelte popolari o impopolari, spesso impopolari nella vita normale, e allora bisogna che tu abbia un po' di carica, oltre alle cose fede e altre cose, ma quando proprio devi avere la carica, la carica, e allora anche un colore, un quadro, un momento di quando tu hai lavorato, ti può dare magari l'idea in quel momento che prima non ti era venuta in mente e che poi trovi la strada giusta per risolvere. È un segreto, è vero, avere una centrale di energia, un nucleo di energia che può essere, ecco, perché la tua arti la vedo potentissima. Poi, quando mi rido, quando mi dicevi prima, sotto il mio Vondecalo, ma certo, guarda che la strada è piena di artisti straordinari, che, ecco, ma a parte tutto, e a parte anche la storia, mi piace mostrare, mi piace avvertire quello che io sento dell'opera stessa. Cioè, la storia vuol dire gloria in genere, ma quella gloria è un aspetto esteriore che può esserci come non esserci. L'idea è quello che può darti in questo momento, quando lo guardi, ecco perché c'è il collezionismo intelligente sulle opere che trasmettono, perché hanno capito che è una risorsa enorme. Cioè, un oggetto fascinatorio, in questo caso, che ti dà energia sempre, come un sempre vero, è un qualcosa di straordinario. Cioè, pensateci un attimo, dove trovi oggi qualcosa che ti dà energia? Il quadro, ecco il quadro. Sì, perché non... È superfluo anche il quadro. Eh sì, certo, non è che se... Però, se ti dà quel momento di tranquillità, che lo puoi sentire con una canzone, è la stessa cosa. Ma l'emozione è un dono, ha un valore l'emozione. Qualsiasi cosa. C'è che non si può emozionarsi davanti a niente. Il quadro è un'emozione, ecco perché... Sì, è vero. Certo, ed è diversa dall'emozione che può dare una Ferrari, un Rolex, cioè, quelle sono cose bellissime, certo, ma... però hanno un'emozione più effimera. Capito? Puoi averla, puoi non averla, ma questa è una cosa che ti continua. Cioè, un modello di un orologio, di una cosa, te lo puoi permettere, non te lo puoi... è anche superfluo. Però, in fondo, questa è una cosa che ti dura tutta la vita, anche dopo, perché... Ma è più intima, capito? È più per te, è più riservata, forse. Perché io capisco una cosa, e poi qui chiudiamo, siamo andando al termine, una grande trasmissione, questa molto... Io capisco questo. Cioè, è vero, siamo... Cioè, noi siamo creature, comunque, che hanno l'inizio e una fine, su questa terra, almeno. Ecco. Quindi, uno deve coltivare sulla terra, altrimenti è finita, altrimenti è un minerale, cioè, deve coltivare un'aspirazione, ecco Firenze, dei sogni, dei desideri, Deve coltivare un'ambizione, ed elevarsi spiritualmente. Sì. Ecco l'arte, dove... Perché nasce il rinascimento? Per questi aspetti, un'elevazione... Certo, l'uomo che con la ragione domina, ma è un uomo che ha un'ansa gigantista per superare il contingente, per dominare la realtà. Maria Germania, io ti ringrazio ancora per questa esclusiva. Io mi auguro di ripetere questa esperienza, sempre qui, rigorosamente, da Ponte Vecchio, dove siamo, a Firenze, nel tuo studio. Ecco, venite a incontarla, a trovarla, ricordiamo ancora la via velocissimamente. Costa dei Magno, lì 27. E c'è il telefono. C'è il telefono, sì che... Grazie a voi per l'attenzione e l'ascolto. Vi ho aperto una pagina della storia fiorentina. Grazie. Sei un artista e vuoi andare in TV con Di Pre? Ti senti artista e vuoi andare in televisione con Di Pre? Chiama direttamente il numero in sovrimpressione. Così, in poche parole, subito, immediato, telefona al numero che vedi in sovrimpressione per entrare nell'arena della TV. Ecco, la televisione determina i comportamenti umani. Ormai non c'è dubbio, la televisione determina le convinzioni politiche, la televisione determina la moda, la televisione determina tutto. La TV ha determinato e sta determinando quegli artisti oggi più celebrati. Più celebrati e quindi quelli che hanno un valore economico, oggettivo. La televisione riesce alla forza di elevare l'artista, di dargli un riconoscimento economico che altrimenti non avrebbe. Questa visione, questa dimensione, questo essere portatori di un'arte, che sentite essere di portare sulle spalle, questi sostantivi, questa grandezza, ebbene, se vi sentite artisti, se avete un percorso artistico, anche articolato, magari anche moltiplicato, un percorso dimenticato, ebbene, telefonate al numero che vedete in video adesso, perché personalmente avrò modo di poter interpretare il vostro messaggio artistico e darvi la possibilità concreta di realizzare qualcosa di importante, qualcosa che appartenga realmente alla dimensione di competizione con tutto quello che invece di belletario, di inutile, di concludente, vediamo in tv. E cioè oggi l'artista per essere, per poter determinare un mercato, per poter diffondere il suo pensiero, la grandezza delle sue opere, le forme strutturate, articolate, che sono la base di ciò che sente, deve andare in televisione. Lo deve fare soprattutto con chi, e lo ripeto, senza falsi monumentalismi, senza retorica, con chi da sempre ha intrapreso questo progetto storicamente a ridosso del presente, cioè il progetto di Andrea Di Pre, che vi sta parlando, per diffondere una cultura libera da condizionamenti. A me interessano gli artisti per i quali l'amore per l'arte, l'amore per la pittura, l'amore per la scultura, l'amore per la creatività è così forte che qualunque altro impegno, qualunque altra intenzione, qualunque altra ideologia fuggono dal suo orizzonte. Qualunque altra intenzione. Capite? Cioè, a me interessano gli artisti che provano verso l'arte un trasporto così totale, un transfert nelle loro opere così assoluto, da essere collocabili al di fuori di ogni convinzione, opportunità o calcolo. Per questi artisti, per queste vocazioni creative, disseminate ovunque, in Italia, in Europa, nel mondo, ma ovunque dimenticate, soprattutto in Italia, ahimè, soprattutto in Italia, a questi artisti mi rivolgo, telefonate perché attraverso un, attraverso riprese televisive, attraverso la documentazione televisiva, potete avere immediatamente un riscontro oggettivo, ma un riscontro che è dato prima dal rendere grandi numeri, grandi masse, tanta gente, attenta alla vostra attività artistica. Successivamente mi accorgerete come esistono dei collezionisti, dei privati, che sanno scegliere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.